ok quindi ben ragazzi io sono gisius e per la prima volta sul mio canale portiamo pokémon showdown che è una specie di emulatore ma non lo porto da solo porto insieme a un altro canale che ho conosciuto da poco si chiama nstyle e vi presento tutti i suoi membri anzi li lascio presentare così è meglio ciao a tutti i ragazzi benvenuti sul canale di al gisius noi siamo gli nstyle in particolare ci chiamiamo lorenzo matteo riccardo e siamo tre ragazzi in realtà siamo quattro che facciamo video su tutto il mondo nintendo e non essendo grandi appassionati anche noi di pokémon e di competitivo abbiamo deciso di fare appunto questa collaborazione col canale di ultimate gamers che ha subito insomma con grande disponibilità ci ha dato la possibilità di registrare questo video ci mancherebbe ricordiamo ragazzi che usciranno appunto due video uno sul nostro canale nstyle che vi invitiamo a dare un'occhiata e uno sul canale appunto di al gisius anzi probabilmente sarà già uscito quindi trovate il link sia del canale che del video in descrizione molto bene ragazzi speriamo che questo video vi possa piacere e beh direi di dare inizio alla lotta ok per non fare spoiler sul video degli nstyle queen che così siete per forza obbligati ad andare a vederlo per vedere i risultati del vecchio showdown non vi diciamo assolutamente come siamo messi a livello di risultati ok è tutto all'oscuro di tutto e noi disputeremo le partite solo alla fine diremo effettivamente chi avrà vinto vi possiamo dire ragazzi che in questo video ci sfideremo con una random battle di sesta generazione poi a grande richiesta una random battle di prima generazione proprio di ignoranza al massimo e ci siamo dei ciali vi ricordo solo questo ok allora io ragionerò un po' a voce alta perché sono da solo uno sono tre teste che sono meglio di una però io visto che non siamo in settima con raichu non è di alola fortunatamente però siamo in sesta quindi che ma guai si può mediaevolvere è quello l'ottomomento possiamo le mosse di raichu allora possiamo fare una roba di questo genere ok giochiamo di tutto per tutto aia mega 1 e mega ma wild nooo mamma mia molto bene ok la fortuna era dalla nostra ok abbiamo un ref che ti fa che ti tira pastiglia ma è uguale non mi aspettavo però ti presentate devo ricordarmi che sto giocando contro persone che hanno giocato ai combattativi d'altrame anche la ice cream sostituto ok abbiamo uno stadiglio su raichu ok vediamo come gira questa giocata ragazzi ok il sostituto regge plero abbiamo un plero e missa rock slide il sostituto regge mamma mia quel sussidio oh no che ha l'abilità che recupera quello si taunt ok ok è sparito plero che stavolta va mi fa un 31% scaldi super efficace ok poi sonnino eccolo lì e mi spiace ma stavolta ah sostituto sempre però non dura niente no quello è vero ok non quindi per ragionare assieme con il lyc elleclaw o se ne va o muore 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 c'è anche il punch, knock off, left over mi sa che ne è wild, ne ne va ok uno pari, palla al centro è rischioso perchè a veleno è drago vabbè ormai l'hai detto draga alge, spoilerato in pieno esatto ok protect quella me l'aspettavo io l'ho sbagliato giocato drago meteor non del tutto non del tutto infatti si può fare ah questo è il barry va bene eh ok eh vabbè che cosa cosa molto interessante di questi match è che ognuno ahia abbiamo sbagliato ti cazzo non ha fatto niente ma che niente ma che cazzo avrei pensato un po' di più però ero si allibito sul fatto che non abbia fatto niente il povero card mi ha ricordato mi ha ricordato tristemente l'episodio di che si faceva esplodere per nulla ma io questa cosa qua non l'ho mai provata però dovrei no ok no non me l'aspettavo non me l'aspettavo la propria cosa è shiny va bene ok lotta acqua e beh qua direi che la moto acqua e basta quindi può andare qua non so se si può prendere ma non abbiamo fatto niente la ricordata che fa l'aspettavo no io no a respira no ok bella mossa bella mossa eh perchè d'altronde con la sua abilità con le aure era vero mega lancera qua siamo ancora 4 contro 3 la cosa va male taunt bella aia eh si almeno se ne è andato con onore un bel taunt eh si il taunt assolutamente eh si assolutamente si draddicom con mold breakable con mold breakable niente dragon clue che non ha fatto niente flash bomb eh siamo tre contro due no si tre contro due si tre contro due portiamo due e mezzo dai già mossa che non avevo mai visto eh vabbè però almeno posso portare tipo glare paradise ok scald ok perfetto non me la ricordo è molto difficile questa cosa eh si ok vabbè ragazzi è andato dragon claw e qua non faccio molto e tanto e tanto e tanto secondo me ancora un po' finito sarebbe all'ultimo molto molto utile provo Pasco un palloncino ma porco eh meno quello che ha fatto meno quello da concentrazione io sto zitto ma in realtà dovrei parlare non ho visto quello che ha fatto non ho danneggiato che cazzo ok ok ah pure critico cioè pure critico no pure critico e niente si è ribaltata la situazione molto brutta adesso diciamo vediamo la stovars la stovars provalo con l'altro lui si vediamo eh una situazione difficile eh si eh il protek mi l'ho trovata aspettavo è stato meglio ahia eh adesso lo studiamo bene no no assolutamente no assolutamente no forse ce l'hai vedo qua io devo provare così se no ah ok eh si romperà romperà eh qua ragazzi non c'è non c'è è mamma mia si no ah due due si si no in ogni caso siamo un po' più si in ogni caso no non è vero prova allora se lui è paralizzato contro se facessi questo no paint non ci tira giù ok che non ci tira giù però se recuperiamo qualcosa come vuole come vuole io lo farei prova sperando che il paint nooo dai era il momento giusto per attaccare qua però bruttissimo eh così hai tentato di recuperare un po' di niente adesso così per forza beh speriamo mamma mia si ma qua è segnale qua è segnale qua è segnale qui abbiamo i nervi proprio probabilmente abbiamo no qua il problema è che è che io offro una mossa da attacca ah giusto tocca a voi scegliere o tocca a me perchè io ho già scelto e io ci ho scelto aspetta no no è successo quello che è successo quello che era successo prima a me si praticamente niente non c'è niente che io possa fare posso fare paint togliere il 7% e voi togliete un crito mamma mia sudata che partita mamma mia molto bene ragazzi siamo pronti per la seconda battaglia che ovviamente decreterà il futuro punteggio di questa sfida eh ma non sai che finiamo in pareggio forse cioè se potremmo finire in pareggio esatto potremmo finire in pareggio oppure un bel 3 a 1 adesso vediamo esatto comunque si tratterà di uno scontro in prima generazione quindi proprio ignorante al massimo che più di cosi non si può speciali iniziamo subito ok ce l'ho in generazione tipo non c'è niente dai non ci sono neanche le abilità speciali cioè c'è una statistica per oh mio oddio ma cos'è questa cosa qui grazie è benissimo dopo senso con la musica di bianco e nero dei capotrini si è vero allora allora ma proprio Sandlash contro Sandlash fammi capire c'è senso dai lui sappiamo che mosse può fare no quante ignoranze in questa squadra guarda si veramente c'è possiamo fare questo possiamo già ma si dai eh si ma il problema è che sapete qual è il fatto? è che mi sa che abbiamo uno speed tie qua si abbiamo la speed tie credo molto bello 101-107 e 101-170 si si è identico identico eh va bene eh va bene e qua si tratterà di vincerlo a speed tie eh 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 questa è una bella enigma proviamo se abbiamo un culo non ce l'abbiamo ok bruttissimo ok a questo punto farei questo prova ho intanto vinto due speed tie provo io se ho culo vediamo niente no io le speed tie vincerle mai dai si no no allora oppure abbiamo qualcosa o forse avevamo un poco in più di velocità tipo uno o due si anche per il piano si da 101-170 wow ho iniziato a farlo benissimo adesso magari metti in campo uno che abbiamo anche noi e capiamo che abbiamo una squadra identica eh esatto ok ok non ce l'abbiamo le squadre non sono identiche qua sicuramente è più veloce di noi si solo una mossa ci puoi scortare eh perché siamo anche tanto perché siamo a mezzo morto eh non è mezzo morto un mezzo morto un mezzo morto un mezzo morto un mezzo morto vediamo un po' come va io farei una cosa del genere perché guarda questa statistica eh si la so la statistica vediamo eh una cosa speciale difesa fisica è un Rattata cioè l'ha mandato praticamente a morte a morire ok il mio povero Rattata come ho usato come ho usato di insultare il mio povero Rattata no qualcuno mi spieghi come ha fatto quel Rattata essere il più veloce di Vaporeon allora innanzitutto Vaporeon è lentissimo si prima cosa però un Rattata che è il primo stadio ma non è tanto quello è un mossa che ha usato con fulmine è anche paralizzato ok non ho parole ma qua non esistono gli strumenti no questo non è anche le abilità quindi c'è un acquascolo di Omastar che non esiste questa non ha tanto movimento sismico ok è il critico ovvio si potevo avvero potevo potevo il cancellare ah oh grazie un critico anche a me ehm mi sai che qua adesso adesso ma fuori è morto è morto si provo non vedo magari un is che ne so ok vabbè ho giocato sbagliati alla morte a parte che era paralizzato quindi lo sapevo ok però però magari allora non so voi ma io me la giocherei con lui si d'accordo si si vai a parte che non ho visto molte aia se adesso non va a segno siamo nella merda nooo è andato a segno bene posso svegliarmi posso svegliarmi posso svegliarmi se mi sono svegliato e ma no nooo si è svegliato troppo presto qua prova si no il mio resta pura no io tenterei come un'altra cosa di eh è tipo questo però aspetta è più veloce lui no 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 si è più veloce lui è più veloce lui io farei una roba del genere stupida strana è bella a modo suo si finora abbiamo un partito a dire grazie ok basta non beccare il congelamento ok madonna ma andiamo così allora dai puoi andare boh puoi dai riusciamo ancora a rinversare i vari piccoli che ci sono ok si è vero si è vero siamo fuori per giù vabbè è molto si sa cosa da quando quella è fisica no ci sono un po' di casini nella prima generazione diciamola così si va allora come può essere fisica ci proviamo ci proviamo ma anche se ho idea che se va si ma mamma mia il perro raggio è fisico era fisico era fisico lo giuro adesso non lo io bello dobbiamo ricaricarci che bello lo spray di Charizard qua mi piace un casino è tipo un drago bianco più vecchio ok un earthquake ah boh stai scherzando no 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 fermi fermi non c'è recupero non c'è stai scherzando allora siamo noi che non conosciamo le regole di prima generazione ci ho mai giocato ma neanche io ci ho mai giocato ma sapevo che il perro raggio fosse fisico ma non che non dovessi recuperare appunto questo mi pare molto strano attenzione un per cento di ps la paralisi la paralisi no ragazzi qua la fortuna ci sta rivedendo c'è ci arrivi ok noi siamo forse più lenti a quel punto andrei più ora forse più lenti penso di si forse si ma bene in caso adesso chi possiamo mettere in gioco lui lui non lo diamo no lui lo mandiamo a lui cioè sai cosa deve fare no lui può farlo ma può farlo anche l'altro ma no ma dai è mezzo morto è mezzo morto ok ok spera che resista non resisterà non è tipo non aveva qualche problema di stato quindi no no ok era lui che mi faceva ignoranza al cento per cento qua oh oh vai vai ti ha dato la morte ok forse era meglio se noi siamo noi siamo oh dovevamo chiamarti ti misi tipo e sto da caricare adesso alla kaboom alla kaboom alla kaboom ciao è stato tappin troppo chiaramente non ho parole non è durato niente ma ma radata di prima mi lascia un voto eh sì dopo il punto ha dato fastidio vabbè direi tipo wheezing uomo partita esatto che si fanno esplodere entra in campo primo turno no ho un partita è sanslash che c'è su 5 speed time non ne ho vinta una non ne ho vinta una la paralisi non è andata una volta mi sono svegliato blizzard da missato cioè e poi e poi ratatata confus almeno quello concedi almeno ratatata ma ratatata ha fatto anche un ottimo lavoro tipo che non ha recover esatto fisico 250 è importante molto bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto il video come al solito passate dal canale degli endstyle se non lo avete ancora fatto mi raccomando passate perché il primo video l'abbiamo fatto sul loro canale ed era finito con esatto uno 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 pari uno pari uno pari invece da me mi hanno asfaltato cioè da loro tenendo un attimo il pari invece qua no asfaltato se vi piacciono video di questo tipo fatecelo sapere mi raccomando esatto avevo in mente di fare delle altre collaborazioni in futuro vogliamo spoilerare non vogliamo spoilerare dite voi ma io direi anche di no facciamo cioè teniamo un po' il mistero teniamo il mistero magari chiediamo ai tuoi iscritti se hanno qualche idea magari possiamo portare qualsiasi cosa quello che vogliono anche loro è già per me quindi se vi piace Showdown fatecelo sapere queste qua sono state ignorante monstruose potremmo ragionarci un po' più sopra perché vi assicuro che loro sono bravissimi ma ho altri due miei amici che potrebbero probabilmente cavarsela un pochino io un pochino anche io probabilmente però tre teste sono meglio di uno lo dico sempre ehm avevamo questo vantaggio diciamo si diciamo che qua i vantaggi erano quasi nulli nella serie che l'ignoranza ha fatto da padrone si assolutamente però forse nel competitivo lì sarebbe da giocarselo lì bisognerebbe vedere cosa tiriamo fuori esatto bisognerebbe vedere cosa tiriamo fuori quindi noi probabilmente ci vedremo ad agosto io con gli endstyle perché vanno in vacanza giusto e anche io ho il mio da fare anche l'ora perché siamo a metà luglio ancora qua è un po' bruttino è un po' bruttissimo sul canale di ultimate gamers speriamo che ovviamente possano uscire altri video di questo tipo sempre se vi piace lo stil e noi ci vediamo a un prossimo video ciao